Ciao Roby, ciao, che bella giornata, è la giornata ideale per stendere i panni al sole. Qual è il tuo colore preferito oggi? Arancioni, vorrei mangiare un mandarino. Roby, ciao Roby. Ciao. Sono qui eh. Sono molto felice per te. Yuppie, yuppie. Mettiti seduto. Mettiti seduto. Mettiti seduto. Modalità timer. Ricevuto. Terro gli occhi bene aperti. Allarme, c'è un intruso. Parola d'ordine. Sei mitico. Parola d'ordine. Sei mitico. Bentornato. Grazie. Modalità timer. Ricevuto. Terro gli occhi bene aperti. No. Allarme, c'è un intruso. Tocca a me. Tocca a me. Sono Roby. Robot di massima sicurezza. Sei completamente circondato. Getta le armi e arrenditi senza troppe storie. Buonanotte. 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 Non dormire troppo. Buonanotte. Buonanotte.